Milano News.it Daniele Mascolo in vista della gara di domenica in casa del Napoli, Stefano Chioli tornerà a schierare il suo Milan con il 4-2-3-1, abbandonando così la difesa a tre delle ultime settimane. Davanti a Maignani, Davide Calabria ritroverà una maglia da titolare dopo quasi due mesi. Insieme al capitano rosso-nero ci saranno Tio Hernandez a sinistra, mentre Tomori e Chiaire al centro della retroguardia, che avrebbero dovuto vincere il ballottaggio con Tio. Tonali e Bennacer confermate a centrocampo, così come Giro al centro del Milanista. In tre quarti ci sarà Leao a sinistra, Kronic al centro e uno tra Diaz e Seile Makers a destra, con lo spagnolo favorito. Probabile formazione Milan-Mainian Calabria, Chiaire, Tomori, Tio Hernandez Tonali, Bennacer Diaz e Seile Makers, Kronic, Leao.